Leonardo Sciascia, lo scrittore che dal suo osservatorio di Racalmuto, piccolo paese in provincia di Agrigento, rifugia dalla ribalta e parla sempre a bassa voce, ma si distingue al punto da diventare in certi momenti l'unica voce fuori dal coro, in un paese dove è sempre più difficile scoprire da che parte si cela la verità. La mafia si combatte non con la tensione delle sirene, dei cortei, della terribilità, la mafia si combatte col diritto. Una lungimiranza che gli viene non dall'essere profeta, ma dal saper vedere la realtà e tirarne, come dice, le giuste somme. Il problema della giustizia, dell'amministrazione della giustizia è stato sempre arduo, ma credo che in nessuna società civile, in nessun sistema democratico, abbia mai raggiunto il grado di confusione cui oggi è arrivato in Italia. Appuntamento dunque a partire dalle 23.40 con le nostre rubriche, per ora è tutto, grazie, buona serata.